Il regalo di Natale è un film del 1986 scritto e diretto da Pupi Avati. Che colpaccio ragazzi, che colpaccio. Sarò onesto, era una serata in cui onestamente non avevo nessuna pretesa in realtà dal punto di vista cinematografico e vagavo nella collezione di film messi da parte da provare a vedere e non trovavo nulla che si confacesse alla serata. Allora che cosa ho fatto? Ho deciso di provare a ripiegare su qualcosa che per quanto è la mia concezione e la mia più o meno educazione cinematografica può essere riferito come forse cinema d'autore. E allora mi sono andato a recuperare questo film del 1986 italiano. Porca miseria, che bello, che bello e che fascino, che bello e che fascino. Questo film è di Pupi Avati. Io personalmente ho visto soltanto un film veramente di Pupi Avati, ossia Il figlio più piccolo, con Christian De Sica, e questo film mi aveva colpito veramente in maniera positiva. Allo stesso modo, anzi per certi versi, forse in maniera meno dolorosa, ma più affascinante, mi ha colpito questo film, Regalo di Natale, di tanti anni prima. Dell'86, siamo nel 2020, e adesso che sto registrandomi, è quindi di 34 anni fa. Mamma mia. Affascinante. Affascinante come, da una premessa semplice, da un ambiente così limitato, si sia riuscito a ottenere tanto, si sia riuscito a ottenere tanto delle interpretazioni assolutamente magistrali, che sono, per quanto mi riguarda, soprattutto quella di Carlo Dallepiane, che interpreta l'avvocato Antonio Santelia, il pollo da spennare, fondamentalmente, il ricco avvocato, che il gruppo di amici ha fatto, diciamo, venire nella notte di Natale per poterlo spennare, appunto. Ma tanto si è ottenuto anche dagli altri interpreti di questo film, dal gigione assolutamente buono e tragicomico Alessandro Haber, che interpreta Lele, oppure, allo stesso modo, anche si è ottenuto tanto dal personaggio di Franco, cioè da Diego ad Abattantuono, che già in un'altra veste, in un vacanzino tale, aveva intravisto come un attore che, malgrado magari abbia fatto alcune cose non particolarmente elevate, è anche riuscito però a fare delle produzioni e a dare delle interpretazioni assolutamente interessanti, che lo rendono quindi in realtà un interprete molto più versatile di quello che potessi immaginarmi fino a qualche anno fa e quindi capace di adattarsi a seconda del contesto sia all'aulico, se vogliamo, sia al faceto. Ma una buona interpretazione è stata assolutamente anche quella del personaggio di Ugo, interpretato da Gianni Cavina, che interpreta l'amico inaffidabile, interpreta l'amico traditore, che è stato infatti il traditore nei confronti del personaggio di Abattantuono, che di fatto gli ha rubato la moglie, a questo sto alludendo, e che in questa notte di Natale in cui si organizza questa bisca di poker diciamo a una casa di un'amica per poter spennare appunto l'avvocato, cerca in qualche modo di cogliere la palla al balzo e forse fare pace con l'amico che non sente ormai da tanti anni. In un ruolo minore, il personaggio di Stefano, interpretato da George Eastman, che però fa un buon contorno. E fra l'altro, legato a questo personaggio, c'è un siparietto interessante in realtà, una frase, uno scambio velocissimo che c'è relativamente a questo personaggio, che nella storia è un'istruttura di palestra, se non sbaglio. Io da appassionato di fitness sono gasolato, da questo personaggio a prescindere, ma vabbè, e questo stangoio di due metri, mamma mia, da quasi due metri, lo dice lui stesso nel film, e c'è un siparietto, non è un siparietto, appunto uno scambio velocissimo tra personaggi di Batantuono e di Haber, che sono forse i più amici fra di loro, in tutto il film, nel gruppo di amici, più o meno amici, e c'è uno scambio in cui il personaggio di Haber allude il fatto che, ora, a dirlo adesso, sembra una follia, però beh, allude il fatto che, a fuori di stare con le donne, è diventato frocio, e allora, c'è un momento, in cui il personaggio le batantuono, contrariamente a qualsiasi rappresentazione, se vogliamo, della presa di coscienza che qualcuno vicino a noi, magari ha nascosto l'omosessualità, oppure ha cambiato preferenze sessuali, e cose del genere, cosa succede? si mette a ridere, e boom, finisce lì, questa cosa, nel 2020, è assolutamente improponibile, nel 2020, nelle arti, soprattutto, soprattutto in un periodo, come sono gli ultimi anni, in cui, c'è stata una grande, non emancipazione, però, un grande sdoganamento, di certi tabù, e di certe limitazioni, immotivate, insensate, che potevano esserci nel passato, nelle rappresentazioni, di certe cose nel passato, di certe realtà, personali, sociali, nel passato, è assolutamente, anacronistica, e impensabile, in realtà, perché, c'è una, non ci ho voluto vedere, una condanna, uno schierdimento, ma ci ho voluto vedere, un ridimensionare la cosa, ci ho voluto vedere, un, non dare, realmente importanza, alla cosa, capiamoci, se io, dal giorno all'altro, mi trovassi, magari, con un amico, che mi fa, coming out, fra virgolette, magari, mi potrebbe, un attimino, stranire, ah, non la sapevo, cioè, nel senso, non la sapevo, sta cosa, che strana, però, poi, finisce lì, ovviamente, se li voglio bene, ci mancherebbe, e, questa cosa, io l'ho vista, in questo film, l'ho apprezzata tantissimo, e l'ho visto molto avanti, in questo film, come, l'ho visto, molto avanti, molto sagace, nel rappresentare, la, modestia, la, il timore, che certi personaggi, hanno, per la vita, di tutti i giorni, e che hanno, la profonda paura, che possono avere, in determinate situazioni, magari, quando sono, con l'acqua, la gola, ma che, per andare avanti, non hanno, altro, che continuare, a provare, a provare, a provare, e sperare, che gli vada bene, affascinante, e questo film, è un tripudio, di caratterizzazione, un tripudio, di caratterizzazione, e della situazione, dell'atmosfera, di questo, ritornare vicini, gli amici, di sempre, assolutamente, presenti, nella vita, di uno, magari, assenti, nella vita, dell'altro, per problemi, che ci sono stati, in passato, anche molto gravi, e poi, è assolutamente, un tripudio, di caratterizzazione, di questi personaggi, che sono, uno più affascinante, dell'altro, nella loro fragilità, nella loro debolezza, e nel profondo, dolore, disagio, che provano, prima fra tutti, probabilmente, il personaggio di Haber, e forse anche, il personaggio dell'avvocato, ovvero, di Carlo delle Piane, chi lo sa, da un certo punto di vista, forse, questo è stato, quest'ultimo, l'avvocato, è stato il personaggio, che più mi ha affascinato, ma in generale, penso che, chiunque abbia voglia, di vedere, soprattutto, tra i film italiani, forse, una produzione, che si basa, su una buona caratterizzazione, della situazione, e dei personaggi, e, chiunque voglia vedere, delle ottime, interpretazioni, secondo me, con questo, regalo di Natale, assolutamente, non può, che essere, pienamente, soddisfatto, non posso, fare altro, che consigliarlo, quindi, non combinazione, per caso, ho scoperto, che questo film, ha avuto un seguito, tra l'altro, per la stessa regia, e con gli stessi interpreti, nel 2004, cioè, un seguito, che è stato fatto, quasi, vent'anni dopo, io non riesco, neanche, a immaginarmi, come sia stato possibile, soprattutto, a fronte, di quello, che è stato il finale, di questo film, che, alterna, momenti, di commedia, momenti di dramma, momenti di thriller, addirittura, perché la tensione è palpabile, in certe scene, e non riesco, a immaginarmi, come possa essere, stato creato, un sequel, e sono, dopo aver visto, questo ottimo film, per certi versi, contrario, all'idea, che questa storia, possa proseguire, oltre, perché avrei paura, quasi, che potesse essere rovinata, ma al tempo stesso, sono, assolutamente, affascinato, dall'idea, di una nuova, riproposizione, di questa situazione, sicuramente, aggiornata, con la distanza, appunto, di 18 anni, che sono intercorsi, tra un film e l'altro, e comunque, ho la consapevolezza, che, un film, così bello, come questo, sicuramente, nel caso in cui, il seguito, la rivincita di Natale, non sia stato, così affascinante, come questo primo film, sicuramente, questo film, questo regalo di Natale, non potrà perdere, l'assoluto fascino, che ha suscitato in me, regalo di Natale, davvero, un gran bel regalo, di Pupi Avati, ve lo consiglio.